La crisi della carta stampata porta anche rivoluzioni urbanistiche. È il caso di Teramo, dove alcune edicole in centro storico chiudono dopo un secolo di attività. Vecchi scheletri decadenti che l'amministrazione comunale ha deciso di rimuovere. È il caso della storica edicola di Piazza Martiri, una piazza che si sveglia oggi più ampia e più ordinata. Questione di decoro, come spiega l'assessore al comune di Teramo, Valdo di Bonaventura. Andiamo nella direzione per quanto riguarda la delocalizzazione delle edicole, cercando di andare nella direzione di ridare bellezza e decoro alla città. Ma esiste tutto un progetto di delocalizzazione delle edicole esistenti e ancora in attività, che spesso si trovano a ridosso dei monumenti più belli della città. Basti pensare all'ingresso di Porta Reale o alla chiesa di Sant'Antonio in corso di Michetti. Facciamo un percorso entrando da Porta Reale. Lì c'è un'edicola ridosso della Porta Reale, tra l'altro lì si prevede di sistemare quell'ingresso anche con un'eliminazione scenografica, quindi dobbiamo intraprendere trattative, già ho sentito il titolare, per trovare una soluzione dell'ecualizzazione. Intanto abbiamo rimosso l'edicola sotto Piazza Orsini. Ieri è stata rimossa questa edicola e c'è stata una collaborazione fattiva della titolare, veramente una persona disponibile e gentile. Qui era prevista dell'ecualizzazione vicino all'Olmo, ma oramai sappiamo benissimo che le edicole non hanno più un mercato, perché diventa difficile oggi con il nuovo sistema di comunicazione dei sogili. Adesso c'è la trattativa, sempre con la stessa signora che era proprietaria di questa edicola, per quanto riguarda l'ecualizzazione di via Carducci. Lì è previsto il rifacimento del pavimento di quel tratto. Nel piano di intervento sul corso San Giorgio si prevedeva anche delle somme proprio per la delegolizzazione dell'edicolo, come è successo per Larga San Matteo, quindi speriamo di trovare a breve un accordo e ne sono sicuro che arriveremo all'accordo e poi così ci sarà una delegolizzazione, o non so se la chiusura, poi la signora che sceglierà quale vorrà strada intraprendere, proprio per arrivare anche alla sistemazione di quel tratto di strada lì che ridà proprio sul corso all'inizio di via Carducci e trovare una sistemazione migliore per l'edicolo.